Tutti stanno giocando con dei giochi fantasiosi, di quali neanche conosciamo il meccanismo. Oella, Alice, come va? Sei all'impresa con la settimana enigmistica, vedo. Cosa stai facendo? Aspetta, aspetta, sposta un po' la testa. Ecco, cosa stai facendo? La pista cifrata. Ti piace questo? Sì. Cosa sta venendo fuori? Non lo so. Non lo sappiamo ancora. Però, scusa, prima mi hai detto che fai anche qualche altro gioco della settimana enigmistica, è vero questo? Sì. Sì. Parla voce alta, parla voce alta. Sì. Cosa fai ancora? Questo. Anche quello. Però oggi vorrei risolvere con te qualcos'altro. Parla le crociate. Se ti va. No, non le pregociate. Vuoi aprire a pagina 3? Perché a pagina 3 io ho visto che c'è un gioco che potrebbe essere adatto a te. Guarda, questo qui, ho pensato proprio a te Alice. Questo qui. Aggiunta finale bilaterale. Dovremmo aggiungere due lettere, come una specie di sillaba, insomma due lettere in fondo. Ok? Adesso stai attenta. Hai capito il meccanismo? Ci sarà una parola, aggiungiamo due lettere e verrà fuori un'altra parola. Va bene? Forse è un po' difficile. In che classe vai, scusa? Quinta. Quinta, media. Prossimo anno, prima media. Eh beh, prima media allora. Proviamo a leggere questo gioco allora. Ok? 4810. Prova a leggere il titolo. Tommaso e Nimmista in erbe. Non appena sfoglio la settimana, subito il mio bambino prende una X e vuole fare XXXXXXXXXXX. Cifrata. Cifrata. Eccoci qua. Allora, il mio bambino prende, cosa si prende per scrivere? Tu hai in mano una? Penna. Ecco. però potresti prendere anche un'altra cosa invece che la penna lapis brava perché forse hai contato che lapis quante lettere ha quante lettere sono lapis cinque e se fosse la parola giusta prova a scrivere lapis scrivilo là sotto dove vuoi cosa significa lapis matita matita bravissima l-a-p-i-s ecco adesso a questa parola che hai scritto tu lapis dobbiamo aggiungere due lettere in fondo vedi aggiunta in fondo finale bilaterale e verrà un'altra parola allora proviamo a leggere di nuovo dall'inizio non appena sbaglio la settimana subito il mio bambino prende un lapis e vuole fare prova a scrivere di nuovo quelle cinque lettere che hai scritto prima riscrivile da lice si tutte cinque sotto e poi aggiungerai ancora due lettere vediamo cosa vuole fare questo bambino aspetta aspetta scusa che entro con la telecamera la pista cifrata la pista cifrata vedi che aggiungiamo due lettere ok cosa ti è sembrato risolvibile o no si ecco infatti l'hai risolto bene allora cara lice ti ringrazio di aver risolto con me ti lascio in pace perché tu devi completare cosa? che gioco? la pista la pista cifrata perfetto ciao ciao eccoci qua con la pista cifrata ti lascio in pace grazie grazie grazie